Se si tratta di una forma di protesta contro la rotonda, probabilmente è una delle più singolari che si siano viste a Cittadella. Certo è che tra le motivazioni che hanno spinto Manignote a posizionare il sanitario misteriosamente apparso alla rotatoria di Laghi, oltre a chi scomoda precedenti di arte contemporanea, la tese più accreditata rimane lo scherzo goliardico. Una presenza che comunque a Cittadella non è passata inosservata visti i numerosissimi automobilisti che percorrono la strada.